L'Eden Village, borgo del Principe, di recente costruzione, è affacciato sulla splendida spiaggia della Baia di Marina di Zambrone, a pochi chilometri da Tropea. Impreziosito da un ampio giardino nella parte centrale e da un bellissimo viale alberato che conduce verso il mare, è un luogo perfetto per rilassarsi tra fiori colorati e piante esotiche. La struttura si compone di 63 unità abitative dislocate su due livelli ed immerse nel verde, situate nella zona di ingresso in posizione tranquilla, arredate con eleganza e dotate di aria condizionata, tv color, cassaforte, servizi con box doccia e asciugacapelli, frigo bar. Per gli amanti della gastronomia, ristorante con veranda, ristorante Il Piccolo Principe per bambini, organizzazione di serate tipiche, show cooking, cena di gala sulla terrazza panoramica da cui si ammira lo splendido tramonto sulle isole eolie. Eden Viaggi propone l'All Inclusive con trattamento di pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti, soft drink dai dispenser durante tutta la giornata, due snacks al giorno, antipasti a buffet, primi e secondi piatti serviti al tavolo. Per gli amanti dello sport, campo da calcetto e anfiteatro. A pagamento, noleggio bici e auto. Il divertimento è assicurato grazie all'animazione curata da un'equipe specializzata che propone un esauriente programma diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spettacoli in anfiteatro. Per i più piccini, attività divise per fasce di età, mini club 4-12 anni e junior club 12-16. Per un soggiorno in pieno relax, piscina per adulti e per bambini con sdraio ed ombrelloni e spiaggia di sabbia bianca, privata anch'essa, attrezzata con ombrellone, lettino e sdraio a camera. E' possibile al momento della prenotazione richiedere il pacchetto piccoli privilegi che prevede check-in personalizzato, cesto di frutta in camera all'arrivo, prima fornitura frigo bar, riassetto camera serale, oltre che mattutino, tavolo al ristorante riservato, un ombrellone e due lettini riservati in spiaggia in prima fila. Tra i servizi reception, bar con servizio di scaldavivande e scaldaviberon per i più piccoli, parco giochi per bambini, possibilità di escursioni per le isole e olie con partenza nelle immediate vicinanze, parcheggio custodito interno alla struttura. Eden Viaggi augura a tutti una piacevole permanenza.